in questo numero del tg ambiente clima il parlamento europeo approva la carbon tax eco futuro la democrazia energetica è rinnovabile edilizia nuova tecnologia mangia carbonio decathlon festeggia 30 anni in italia e accelera sulla sostenibilità il parlamento europeo ha dato il via libera ai tre pilastri chiave del pacchetto fit for 55 la strategia per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 i testi adottati dall'eurocamera riguardano la riforma del sistema di scambio di quote di emissioni che includerà il trasporto aereo e marittimo il fondo sociale per il clima e la carbon tax tale misura imporrà alle aziende importatrici nell'ue di comunicare la quantità di emissioni contenute nelle merci alla frontiera per poi acquistare certificati corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre i beni all'interno dell'unione l'unione europea applicherà dunque una tariffa aggiuntiva ad aziende produttrici che si trovano al di fuori del proprio territorio di voto storico ha parlato la presidente dell'euro parlamento roberta mezzola per la presidente della commissione europea ursula von der leyen si aggiunge un'altra pietra miliare per fare dell'europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico la democrazia energetica è rinnovabile è questo lo slogan della decima edizione di eco futuro il festival delle ecotecnologie protagoniste della manifestazione le comunità energetiche per il loro sviluppo la rete di eco futuro ha raccolto oltre 35 mila firme e ne supporta attivamente la nascita in molti comuni italiani presenti all'evento il vice presidente della camera sergio costa e la segretaria nazionale del partito democratico ellis lane le comunità energetiche in un paese come l'italia che non ha materie prime tipo il gas il petrolio e al di là delle vicende più squisitamente climatiche rappresentano il futuro perché mettono al centro dell'attenzione un bene gratuito come per esempio il sole detto questo la norma c'è mancano i decreti attuativi quindi il primo appello al governo a far presto con i decreti attuativi perché i decreti attuativi in sostanza ti dicono come farli sviluppare velocemente anche alla luce del fatto che nel pnrr ci sono 2,2 miliardi di euro per le comunità energetiche in particolare per il 70 e poco più per cento dei comuni d'italia cioè i cosiddetti piccoli comuni non solo ci sono le risorse ma anche perché bisogna trovare il modo per aiutare questi comuni dove oggettivamente a volte ci sono delle delle professionalità importanti ma obberate di lavoro mettendo insieme tutto questo noi possiamo dare una risposta estremamente concreta non solo al cittadino sul territorio in modo ecologico ma anche diventare lab del solare le comunità energetiche bisogna sbloccarle perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi sono un bel modello di come si può tenere insieme la giustizia sociale e la questione climatica perché riescono a mettere insieme persone associazioni comuni scuole case popolari imprese per autoprodurre e condividere energia pulita e rinnovabile in questo modo si realizzano due obiettivi molto desiderabili quello di abbassare le bollette ma al contempo di abbassare le emissioni clima alteranti abbiamo tutte le tecnologie possibili immaginabili la grande domanda è perché è così difficile per le persone capire questo e capire che non servono discorsi non servono azioni così di semplice protesta non ci portano da nessuna parte abbiamo le tecnologie si tratta di rimboccarsi le maniche e capire che possiamo risparmiare tutti i singoli le famiglie le aziende un mare di soldi che vengono buttati dalla finestra se comprendiamo che oggi è conveniente smettere di distruggere l'ambiente è una notizia meravigliosa grazie ad un nuovo processo di frantumazione delle rocce utilizzate nell'edilizia e nell'industria mineraria si potrebbe catturare lo 0,5 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica che equivarrebbe a piantare una foresta di alberi grande quanto la germania senza l'aggiunta di energia lo studio elaborato da un team di ricercatori dell'università di strathclyde in scozia dimostra come sia possibile intrappolare una maggiore percentuale di anidride carbonica in una forma stabile e insolubile in rocce composte da diversi minerali macinandola in gas co2 le polveri di roccia ottenute potranno essere immagazzinate e utilizzate nell'ambiente per la costruzione e per altri scopi l'industria dei materiali e delle costruzioni è responsabile dell'undici per cento delle emissioni globali di carbonio e ogni anno in tutto il mondo vengono frantumate più di 50 miliardi di tonnellate di roccia l'applicazione di questo processo potrebbe ridurre l'impronta di co2 associata alla costruzione di case e infrastrutture pubbliche contribuendo a raggiungere gli obiettivi globali di lotta al cambiamento climatico dell'accordo di parigi infatti se questa tecnologia venisse utilizzata in tutto il mondo si potrebbero assorbire ogni anno 175 milioni di tonnellate di anidride carbonica dall'atmosfera decathlon festeggia 30 anni di presenza in italia lo fa con un impegno ancora più significativo riducendo l'impatto ambientale dei suoi prodotti dalla valorizzazione dell'usato al noleggio e alla riparazione fabrizio sormani chief business development officer il noleggio lungo termine legato alla categoria delle bici bambino categorie di prodotto che si sposa molto a questa tipologia di strategia per accompagnare la crescita di bambini e bambine infatti con un costo mensile c'è la possibilità di appunto di accompagnare la crescita dei nostri figli senza riacquistare di volta in volta dei prodotti nuovi che poi non vengono utilizzati poco con un costo mensile ogni mese si può accedere a una taglia diversa fino arrivare a tre mesi rinnovabili nella mission di decathlon anche il sostegno è più fragile e l'abbattimento delle disparità di genere stefania sacchi responsabile fondazione decathlon e patrizia brognoli diversity ed inclusion manager dal 2009 abbiamo attiva la fondazione decathlon in italia è una fondazione che si occupa di avvicinare allo sport persone che sono in situazioni di fragilità quindi fondamentalmente con la nostra fondazione portiamo lo sport in quelle situazioni di disagio dove altrimenti lo sport difficilmente arriverebbe aiutiamo con i nostri progetti quindi persone con malattie con disabilità con disagio socio economico familiare abbiamo dedicato particolare attenzione a tre strategie nello specifico che sono le pari opportunità uomo donna la multiculturalità e l'accompagnamento delle categorie più fragili sulle pari opportunità è importante non solo accompagnare ma identificare quelli che sono gli ostacoli in azienda per rimuoverli e per permettere alle donne che hanno la volontà di farlo di crescere e di raggiungere posizioni di leadership oggi il 56 per cento delle nostre risorse donna siamo al 39 per cento di donne leader vogliamo raggiungere il 50 per cento entro il 2026 sono Grazie a tutti.